Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Ma lei è stato querelato da bannacci o no? Mi è arrivata la notifica della querela. Per diffamazione? Sì, per diffamazione. Perché? Perché sono giorni pieni di soddisfazioni, francamente. Perché io voglio capirla questa cosa qui. Io non ho insultato nessuno, ho fatto una domanda precisa, cioè nel bar Italia se uno dà della normale a un gay può dare del coglione a un generale? Questo io ho detto, è una domanda che pretende una risposta. Pretende una risposta. Perché se passa il principio che uno, magari con le stellette, può decidere chi è normale, qual è l'umanità normale, siamo avanti con i lavori. Siamo avanti con i lavori. Tendiamoci bene. Dopodiché l'hanno querelato in tanti per altri motivi. Io non sono di quella linea. Li rispetto, anzi approvo, prezzo, aiuto, tutto. Però io sono un'altra linea. Ne parli al bar, ne parlo al bar anch'io. Infatti io l'ho presa la querela. Io non l'ho fatta. L'ho presa. E come andrà a finire secondo lei? Sono curioso. Ah, io voglio saperlo come va a finire. L'ha anche sfidata a duello, qua ne vedremo delle belle. Sì, ma l'ho sfidata a duello. Ecco, torniamo un po'.